La rivoluzione più importante è sicuramente che la piazza verrà definitivamente pedonalizzata, quindi le macchine che vediamo oggi, la bolgia che vediamo oggi non ci sarà più. Ci sarà ovviamente un accesso dedicato ai tassisti, ai portatori di handicap, al car sharing e a un minimo di carico e scarico per le attività che trovano la loro collocazione all'interno della piazza. Ovviamente gli utenti che andranno a fare il carico e scarico dei cittadini, di chi vuole accedere alla stazione, avranno un'area dedicata, gratuita, oggi per 20 minuti, speriamo di portarla a 30, nel parcheggio adiacente alla piazza, gestito non DATAM ma da una società della Galessa di RFI che è Metro Park. Quindi di fatto vengono soddisfatti tutte le esigenze, anche gli utenti potranno avere una zona di carico e scarico molto più agevole rispetto a quella di oggi. E una nota sicuramente importante e caratterizzante è che vorremmo portare in piazza della Repubblica un monumento molto importante che è quello che oggi troviamo in piazza del popolo, un monumento intitolato al 20 settembre con la stella di Mazzini all'interno della piazza in modo tale da dar maggior valore anche a questo monumento che oggi è collocato in un'area molto periferica di piazza del popolo mentre una volta trovava collocazione al suo centro. Tempi di realizzazione, costi? Allora i costi si aggirano intorno a 1.300.000 euro, i tempi sono legati anche al bando regionale al quale abbiamo partecipato giovedì scorso, abbiamo chiesto il 70% di contributo, quindi nel momento in cui la regione ci risponderà noi siamo pronti per partire, ovviamente non vediamo l'ora perché questo qui è un importantissimo biglietto da visita della città nei confronti di tutti gli aretini, di tutti gli utenti ma soprattutto per chi viene a trovarci dalla ferrovia.